Da oggi le marche sono entrate in zona gialla, ma è una conquista fragile e che naviga a vista del prossimo andamento dei contagi. La discriminante per mantenere il colore di zona è infatti di 250 casi positivi a settimana ogni 100.000 abitanti. Le marche a novembre viaggiavano a 297 casi, a metà dicembre sono scese a 153, ma ora si risale a circa 252 dopo una settimana da 3841 casi complessivi in regione. Troppi per la zona gialla. Oggi, come ogni lunedì, è risultata più bassa la cifra di tamponi processata nel weekend, ma si evidenzia un rapporto positivi testati pari al 28,9%. Insomma, è risultato positivo al Covid quasi un marchigiano su tre sottoposto al tampone. Nello specifico sono stati 333 i nuovi casi positivi su 1.151 nuove diagnosi per 1.927 tamponi totali. Ultima giornata che ha registrato anche 13 decessi. A preoccupare è però soprattutto il focolaio che da venerdì si è sviluppato all'ospedale di Urbino con diversi medici e infermieri positivi al tampone e la relativa chiusura dei reparti di rianimazione e cardiologia. Tant'è che i ricoverati non contagiati saranno ora trasferiti all'ospedale di Macerata Feltria e alla RSA pesarese di Galantara. Intanto la regione si mobilita per attivare la protezione civile nazionale per l'invio di nuovi medici a supporto.